Avevano rubato complessivamente, più o meno in contemporanea, qualcosa come 300 chili di limoni in due diversi appezzamenti di terreno, uno in via Biscari ad Acicastello e l'altro in contrada Rovettazzo a Riposto. In quest'ultimo caso ad intervenire sono stati i carabinieri della compagnia di Giarre dopo aver ricevuto una segnalazione sulla presenza di alcuni giovani all'interno di una proprietà privata. I militari dell'arma durante la perlustrazione hanno sorpreso nel fondo agricolo il 26enne Giarrese Alessandro Patanè, già sottoposto alla misura dell'obbligo di dimora nel comune di residenza. Con lui anche un incensurato di 23 anni che alla vista dei carabinieri in un primo momento è riuscito a sfuggire all'arresto. Il giovane però è stato successivamente identificato e denunciato per furto aggravato. La rifurtiva è stata restituita a legittimo proprietario.